Il tema del lavoro e delle tante aziende in crisi è tornato d'attualità. I sindacati incalzano il governo regionale e chiedono risposte immediate. Bisogna creare subito 2000 posti di lavoro, ha detto la segretaria della UIL, Tecla Boccardo. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Secondo qualcuno è stato un flop, secondo altri l'assalto al bunker di Paolo Frattura è stato un successo. In realtà CGL e Cisle UIL hanno voluto dare solo un preavviso al governatore e alla sua giunta sul tema del lavoro e delle tante crisi non risolte, ma non hanno forzato la mano. E così sotto Palazzo Vitale hanno portato delegazioni di lavoratori delle aziende in crisi, circa 250 secondo la Dicos, ben 400 invece secondo gli organizzatori, un numero comunque significativo, considerato che non era stata dichiarata nessuna azione di sciopero. Appare chiaro però che se dovesse permanere l'immobilismo dell'esecutivo regionale rispetto al dramma che stanno vivendo migliaia di famiglie, i sindacati non potranno fare altri sconti a Paolo Frattura, pena la loro stessa credibilità. Non a caso i segretari generali di CGL Cisle UIL nel corso dell'incontro avuto con il presidente e con l'assessore Facciolla e nella successiva conferenza stampa hanno preannunciato venti di guerra. Ci siamo ritrovati con oltre 400 persone, tanta gente ha voluto partecipare, tanta gente sente il problema e alta la tensione sociale, alto il problema e sono davvero molte le persone che aspettano risposte da questa regione. Risposte che ci auguriamo possano avvenire nei prossimi giorni a stretto giro perché noi abbiamo chiesto che almeno le vertenze più imminenti che sono quelli della GAM, quella della protezione civile, quella della formazione, quelle di esattorie, quella di monisedati, vengano affrontate immediatamente perché c'è gente che non percepisce lo stipendio da mesi, c'è gente che ormai non ha più nessuna certezza, nessuna sicurezza per il futuro, c'è gente che dopo tanti anni si vede buttata fuori dal mondo del lavoro e che non può permettersi di vivere e continuare ad avere questa preoccupazione di non portare lo stipendio in casa. Noi aspettiamo risposte anche dai parlamentari, aspettiamo risposte anche dal governo, aspettiamo le risposte sulle mille vertenze sulle quali comunque soprattutto sull'area di crisi. Per rilanciare il Molise c'è bisogno almeno di 2000 posti di lavoro soltanto per ripartire perché sono tanti posti di lavoro che si sono persi e sono tante le persone che oggi non hanno futuro. Intanto dall'opposizione Michele Iorio Bacchetta in un colpo solo, governo regionale e sindacati. Era ora che i sindacati si muovessero, perché si muovessero seriamente, perché per molte cose per la verità arrivano anche tardi. La situazione nel Molise è diventata insostenibile, alla crisi nazionale si sta aggiungendo la crisi prodotta dalla inefficienza della giunta regionale soprattutto per quanto riguarda alcune risposte ad imprese che stanno chiudendo e qualcuna gestita direttamente dalla regione ha chiuso definitivamente. Nel Molise la situazione è diventata insostenibile. Spero che non ci siano le solite risposte di Petraroia, dei tavoli e contro tavoli. Bisogna dare delle risposte concrete per alcune questioni che si possono dare e poi naturalmente sperare anche che il governo nazionale in qualche modo spinga per la ripresa e la crescita. L'atteso ordine del giorno contro l'installazione delle centrali a biomasse che doveva essere discusso al Consiglio Comunale di Campobasso è stato rinviato al 17 ottobre. Intanto il sindaco Antonio Battista si è schierato con i cittadini per difendere il territorio molisano. Il servizio è di Marcella Tamburello. La protesta non si ferma. Le mamme, i cittadini e i sindaci dell'area del Matese, le associazioni ambientaliste continuano la manifestazione di protesta per difendere il territorio molisano dallo scempio che le due centrali a biomassa potrebbero creare nella nostra regione. Alcuni manifestanti hanno partecipato al Consiglio Comunale di Campobasso per chiedere anche al sindaco Battista e la sua maggioranza di sostenere la protesta per convincere il presidente Frattura a fermare immediatamente i lavori. Siamo qui a chiedere anche in questa sede di porre una mano sulla coscienza e pensare alla pericolosità, al danno e alla gravità, all'impatto ambientale disastroso e devastante che le centrali a biomassa potrebbero e possono effettivamente avere in una regione come la nostra, in una situazione come quella vigente nella piana di Campochiaro Boiano. È da sottolineare anche il fatto che dal Matese provengono diciamo le acque che scorrono nei rubinetti e nelle tubature di Campobasso, Larino, Agnone e di quasi tutto il Molise. L'approvvigionamento appunto idrico fa capo soprattutto a Campochiaro, a Stampolo Matese, Guardiareggia. Dopo qualche malumore e vari ordini del giorno discussi prima dell'importante questione delle biomasse, il sindaco Battista ha ribadito la vicinanza ai cittadini e ai comitati. Il territorio, l'ambiente e la salute devono essere tutelati, ha detto. Su questa situazione sono due riflessioni. La prima che persistono ancora dei forti dubbi, anzi non ancora, esistono dubbi sulla opportunità di costruire delle centrali biomasse. Ce n'è una piccola e una più grande e su tutte e due potremmo fare discussioni e riflessioni diverse che confliggono con la vocazione di quell'area e quindi va da sé l'inopportunità di dare luogo alla costruzione di queste due centrali. Occorre poi andare alla seconda riflessione e che c'è una massa popolare, il popolo, la gente, non pochissime persone, tantissime persone che si sono schierate contro, si va contro l'interesse di queste popolazioni. Sono sicuro che il presidente Frattura, che già ha messo in atto tutti i meccanismi per fare ulteriori riflessioni, così come ha dato un interizzo diverso il Consiglio regionale di Molise, saprà accogliere questa opportunità. Il Consiglio regionale che si pronuncia in una certa direzione, il popolo, la gente, i cittadini che danno identica interpretazione sono sicuro insomma che verrà revocato o comunque si prenderanno dei provvedimenti. Questo con i cittadini e contro questo progetto delle centrali a biomasse. Sono state trasferite e distrutte in un impianto del nucleo industriale di Termoli le oltre due tonnellate di marijuana sequestrate dalla Guardia di Finanza nei giorni scorsi. La droga protetta da materiale impermeabile era stata recuperata in mare a largo della costa molisana e poi portata in caserma in attesa dello smaltimento. Intanto sulla rotta del traffico di stupefacenti tra l'Italia e l'Albania proseguono le indagini coordinate dalla procura di Larino. E tutto, termina qui il nostro Tg del mattino, adesso la rassegna stampa. Partiamo con il giornale del Molise.it. Sindacato al cloroformio flop della manifestazione davanti alla sede della regione, molti sigari accesi e molto fumo negli occhi. Il titolo dell'articolo affirma di Pasquale Di Bello che scrive manifestazione al cloroformio dei sindacati davanti alla sede della giunta regionale del Molise, presenti solo i lavoratori delle imprese in crisi e sindacalisti professionisti. Nessun risultato e nessuna soluzione individuata, soltanto due inutili incontri col prefetto di Campobasso e col presidente della regione Paolo Di Laura Frattura accompagnato dall'assessore Vittorino Facciolla. Vediamo adesso gli altri titoli del giornale del Molise.it. La vera illegalità in Molise, le domande del senatore Di Giacomo. Termolilesina, la Puglia tenta il blitz, Nagni, rilanceremo l'ipotesi di modifica del tracciato. Droga in fumo distrutte le due tonnellate di marijuana sequestrate dalla Guardia di Finanza. Riforma della scuola scendono in piazza anche gli studenti a Campobasso e poi Termoli. Trovato a terra privo di sensi in gravi condizioni, un quarantenne straniero si indaga su un possibile investimento. Comune di Campobasso passa la proposta della colazione civica in arrivo alla Casa dell'Acqua. Presidio a Palazzo Vitale, sindacati soddisfatti, i primi risultati raggiunti dicono ma la protesta non si fermerà. Incidente nei campi, muore un ventiquattrenne di Gildone e poi emergenza profughi accolti in Basso Molise altri 136 migranti. Fuori alle gomme per rubare nell'auto, arrestato dalla polizia di Campobasso un quarantatrenne napoletano. Montaquila, casa di cura lager lunedì, primi interrogatori, i cittadini difendono il sindaco. Concerti d'autunno, l'orchestra sinfonica del conservatorio Perosi in scena al teatro Savoia. Ci sono poi editoriali, idee e opinioni. La nuova magia del direttivo della protezione civile del Molise dagli ex precari dell'Agenzia regionale di protezione civile. Riceviamo e pubblichiamo è una riflessione appunto dei precari, degli ex precari dell'Agenzia regionale di protezione civile che hanno partecipato alla manifestazione dei sindacati di ieri a Campobasso. Poi ci sono le altre notizie dalla regione ma anche dall'Italia e dal mondo. Vediamo come titolo adesso primo piano Molise, area di crisi, soluzione lontana. I sindacati ammettono a rischio il riconoscimento. La procedura si è complicata al presidio della triplice disoccupati e cassi integrati. Poi l'incontro con Frattura che coordinerà una cabina di regia per tutte le vertenze. Montaquila, Villa Flora, il video shock del NAS fa il giro d'Italia. Del caso si sono occupati giornali, tv e talk show nazionali e il legale di Rossi rivela da mesi voleva dare spiegazioni ai giudici. Gildone ieri l'ultimo abbraccio a Michele, testa travolto e ucciso dal trattore. Il ventitrenne faceva il fabbro ma dava una mano anche in campagna. Campochiaro, la riserva MOAC contro le biomasse. Concertone per fermare l'impianto. Domani la maratona dalle 15. Musica no stop vicino al cantiere della Civitas. Le altre notizie. Termoli trovato privo di senso in strada. Quarantenne trasferito al cardarelli giallo sull'incidente e sull'identità dell'uomo che era senza documenti. Boiano di ritorno da Napoli col carico di droga nei guai. In quattro i ragazzi beccati dai carabinieri avevano 20 dosi di eroina. Da Campobasso bucava le gomme dell'auto e poi ripuliva i proprietari. 43enne in manette il ladro agiva nei centri commerciali della città. Notizie dall'Abruzzo. Da vasto il sindaco Luciano Lapenna eletto presidente del Lancia. Abruzzo scelto per acclamazione dall'assemblea congressuale. Ci sono poi le notizie di sport. Serie D. Termoli. Mister Catalano ci crede. Bisogna essere sempre positivi dice. Domenica c'è la San Benedettese. Volontari in azione. Muro rosso-blu in curva nord. I Romagnoli si rifà il look per l'anticipo satellitare. La rinascita. Il boiano 62 cerca la prima vittoria al Colalillo con il macchia Valfortore. Da primo piano passiamo adesso al quotidiano del Molise. Orrori in clinica. Indagati sotto Torchio. Montaquila. Reazioni di sdegno nei piani alti della politica. Presentata un'interrogazione parlamentare. 13 persone sono ai domiciliari e lunedì iniziano gli interrogatori del GIP. sindacati in piazza per difendere l'area di crisi. Campobasso alla manifestazione di ieri in via Genova il grido d'aiuto di oltre 400 fra operai e disoccupati. Campobasso squarcia gomme alle auto e deruba i proprietari. Poi ancora Termoli cade dalla bici e ricoverato in gravissime condizioni. Accoglienza 76 profughi africani fra solidarietà sincera e qualche malumore. Sono ospiti all'hotel Modena sul lungomare Termolese. Acquaviva con le croce Eternit nel cortile della scuola. Isernia a leghista Mazzuto. 30 mila euro. Gildone morire di lavoro a 24 anni tragedia nei campi. E poi per quanto riguarda le notizie sportive la curiosità. Campobasso il rosso blu al Grimaldi Forum di Monaco. Promozione Montenero. L'ex Ascoli da Inzara si allena al De Santis. Passiamo adesso a vedere i titoli della Gazzetta del Molise. La giunta frattura ignora il lavoro. Ieri il sit-in di protesta. Poi l'Oscar del giorno. La Gazzetta del Molise lo assegna Franco Sassano. Mentre il tapiro del giorno all'assessore regionale Michele Petraroia. I quotidiani nazionali adesso. Partiamo con la Repubblica. Draghi i governi senza riforme saranno cacciati. Il presidente della BCE dice cambiare per assumere non per licenziare. Giallo sul debito pubblico. Il tesoro abbassa le stime. Il Fondo Monetario Internazionale invece le alza. Il PD processa i dissidenti. Renzi duro. Bisogna punirli. Poi che cosa ha perso Selam andata in sposa a 11 anni? Il dramma delle mogli bambine. Per quanto riguarda la cultura. Il Nobel che cerca i ricordi degli altri. Il premio per la letteratura al francese Patrick Modiano. Ho vinto io. Bizzarro dice e l'articolo a firma di Bernardo Valli. Vediamo il Corriere della Sera. Draghi assumere non licenziare. La BCE spinge per le riforme. Avverte in Italia e Germania. Peggiora il clima di fiducia. Europa. Il presidente della Banca centrale incalza i politici. A casa chi non agisce sul lavoro. Oggi il voto di Moody's sul nostro paese. La voglia di resa dei conti. Nel PD Renzi. Alcune scelte inammissibili. E poi si parla del Nobel per la letteratura. Anche un po' italiano. Il premio vince il francese Patrick Modiano. Il boss non assisteranno all'udienza di Napoletano. Giustizia è la richiesta respinta dalla Corte. Vediamo adesso la stampa di Torino. Poletti così cambia il lavoro. Draghi dice sì al Jobs Act. I governi che non fanno le riforme vanno a casa. Il ministro vi è il precariato e regole certe. Altrimenti le imprese non investono Renzi. Ora semplificare il fisco. I giudici di Palermo. Niente boss alla deposizione di Napolitano. Processo stato mafia. Respinta la richiesta di Rine e Bagarella. Il Quirinale all'immunità. Al colle. Ci sono solo IPM e i legali. Ebola. Gli esperti USA. È più letale dell'AIDS. Va fermato in Africa. Tra le ipotesi il blocco dei voli. Entro 30 miglia. Alfano andremo anche oltre. Addio Mare Nostrum. Arriva il Triton. Sei paesi per soccorrere i migranti. Dalla stampa passiamo al tempo. Tutte le spese pazze degli ospedali romani. Questo è il titolo. Il dossier. Nelle strutture capitoline. Costi diversi per prestazioni uguali. Posti letto più cari all'Umberto I. Al San Camillo. Pronto soccorso record. Vediamo adesso come titola il giornale. Il PD in piazza contro il PD. L'Italia delle follie. Questo è il titolo. Primo effetto del voto di fiducia sul lavoro. Gli anti-renzi in corteo insieme a CGL e FIOM. Banchieri e imprenditori. Il nuovo salotto del premier finanzi ai nemici del premier. Forza Riina. A sinistra spunta il partito pro-mafia. Scrive ancora il giornale. Il rischio del contagio è ebola. Chi ci garantisce da questo assalto l'interrogativo dalla stazione centrale di Milano agli sbarchi in Sicilia. Medici e volontari allo sbaraglio. Libero il Marchese del Colle. Questo il titolo. Riina e Bagarella non assisteranno alla deposizione di Napolitano sulla trattativa Stato-mafia. Una forzatura dei giudici a tutela di un presidente che di forzature ne ha fatte sin troppe. Scrive ancora Libero. E su quelle andrebbe interrogato. Poi l'articolo a firma di Maurizio Belpietro. Mentre Franco Bechis scrive l'articolo La Testimonianza. Re Giorgio disse a fini di tradire Berlusconi. Il mattino. Il paese dei prestiti negati. Garanzie impossibili e stretta sulle clausole. Tutti no a famiglie e imprese. Viaggio nella crisi del credito che blocca lo sviluppo. Crollo più forte al sud. Questo è uno dei titoli del mattino. Vediamo adesso avvenire. Ebola ora fa paura. Ci sfida come l'AIDS. In pericolo di vita l'infermiera spagnola. Il virus ha fatto breccia anche in Occidente. La massima autorità sanitaria americana lancia l'allarme. Sarà una guerra lunga. Vediamo adesso il fatto quotidiano. Riina e Mancino giù dal colle. Processo a rischio nullità. Trattativa. Il Tribunale di Palermo blinda la testimonianza di Napolitano. Gli imputati non potranno essere presenti al Quirinale il 28 ottobre. Diritto alla difesa sacrificato sull'altare dell'immunità del capo dello Stato. Scrive ancora il Fatto Quotidiano. Ora la spada di Damocle dei ricorsi. La Gazzetta dello Sport. Sorpresa. Gli italiani rendono di più. Questo è il titolo principale. L'inchiesta della Gazzetta dello Sport. Abbiamo messo a rapporto le medie e voto di questo avvio di campionato e gli stipendi per scoprire che gli stranieri producono meno. In testa alla speciale classifica c'è il Sampdoriano Romagnoli seguito da Perin. E tra i tecnici un punto di Mazzarri costa tre volte più di uno di Allegri. Italia non fare brutti scherzi. C'è solo un risultato e largo. Si parla di qualificazioni a Euro 2016. Spagna K.O. con la Slovacchia. Svezia Russia invece 1 a 1. Stasera Palermo. Gli azzurri contro l'Azerbaijan. numero 95 al mondo. Missione Conte. Riacceso l'entusiasmo. Dobbiamo continuare. dice. E poi per la pallavolo azzurra è già in semifinale. Oggi la Russia per il primo posto. Al Mondiale gli USA battono 3 a 1 le ragazze di Marikev che questa sera ci sfidano per definire il girone. Bene, con la Gazzetta dello Sport termina la nostra rassegna stampa. Prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise alle 14 in diretta con il TG. Grazie per averci seguito. Buona giornata a tutti. Grazie per averci seguito.